allora mi è stato consigliato un sito dove poter fare acquisti di computer e notebook ricondizionati per l'esattezza mi è stato consigliato la tic toc li mortacci fa vado a vedere il pacco sono tutto felice c'è scritto ricondizionato a più manco se fosse un frigorifero vado a vedere e apro ce l'ho aperto prima guarda che mi hanno mannato sti disgraziati guarda che mi hanno mannato ricondizionato è tutto aperto come una cossa guarda che mi hanno mannato guarda vado a qui dico che ci saranno qui guarda un po' che mi hanno mannato è tutto spizzetto questo qua è il lettone di non so che una cosa aperta se serve la tastiera con l'arte la scheda madre non so manco se ne manco se imparli guardate che schifo non fate acquisti su tic toc e poi dopo non per ultimo che mi vanno a mannà mi vieno pure per il culo grazie per l'acquisto mandatemi in amore ammazzati va grazie 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 grazie